Yannick Sinner continua a macinare risultati eccezionali. Anche la vittoria contro Alcaraz, nella finale del Sex King Slam, gli ha permesso di conquistare il premio in soldi più ricco di sempre messo in palio in un torneo, ovvero 6 milioni di dollari. Una cifra da capogiro che arricchisce notevolmente i guadagni stagionali del numero uno al mondo. Anche su questo argomento si è soffermato Adriano Panatta, che alla luce della sua esperienza, ha provato a fare una previsione su quanto potrebbe incassare complessivamente Yannick. Nel suo intervento Panatta si è soffermato sugli introiti complessivi del numero uno al mondo, dai tornei disputati. Sinner ha guadagnato un sacco di soldi, con i soli premi dei tornei è arrivato a 16 milioni di euro. L'ex giocatore ha poi spiegato perché questa somma deve essere moltiplicata per due per avere un'idea di massima sugli introiti complessivi del tennista, ottenuti in campo e fuori. Conti alla mano dunque Sinner ha intascato circa 32 milioni di euro. Una cifra destinata ad aumentare fino al termine della stagione secondo Panatta, che ha chiuso il suo intervento con una battuta. Un ragazzo che ad oggi è già a quota 32 milioni di euro. Sai cosa penso? Che ho sbagliato anno di nascita?